Ormai ci siamo, siamo vicini all'appuntamento il 9 gennaio con la festa in piazza dedicata alla lotteria della Croce Verde. Eh sì, anche quest'anno ce l'abbiamo quasi fatta, bisogna vedere, quest'anno sarà una festa un pochino più completa perché c'è anche, come sapete, c'è anche la premiazione della sette dell'anno. Si spera che ci aiuti la giornata e comunque per sabato 9 saremo tutti in piazza per vedere a chi va questa macchina quest'anno. I biglietti sono sempre in vendita? I biglietti sono sempre in vendita, sono in vendita fino alle 11.30 del 9 sera. Comunque ci sono ora sempre in vendita nei negozi, ci sono in vendita presso la Banca dell'Erba, ci sono in vendita nella nostra asina sul Portoferraio e ci sono in vendita via la Croce Verde. Ce n'è sempre qualcuno, però siamo abbastanza fiduciosi perché quest'anno, devo dire, è stata un po' di ripresa, abbiamo venduto più dell'altro anno per ora. Ecco, ricordiamo sempre quali sono le finalità di questa lotteria. Le finalità sono sempre per il diritto dei fondi, per le associazioni. Noi abbiamo sempre spese, quest'anno abbiamo comprato tre ambulanze. C'è un po' di ripresa, quest'anno è un po' di ripresa.